Ma quali sono i migliori posti da visitare qui a Parigi? Scopriamoli insieme! Buonasera a tutti ragazzi, noi siamo i bimbi giganti, Francesco e Denise. Oggi vi portiamo con noi alla scoperta di Parigi. Più che una classifica sarà una lista delle attrazioni da non perdere assolutamente. Prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video qui a Parigi. In questo modo ci darete una mano importantissima, per voi è gratis, ma a noi ci aiuta tantissimo. Vi avviso già che in questa classifica non ci sarà Notre Dame perché purtroppo è ancora chiuso al pubblico. Ma tranquilli, riaprirà a dicembre. Detto ciò, partiamo subito dalla decima posizione, il Pantheon, un monumento imponente che domina il quartiere latino. Un tempo chiesa, oggi è un mausoleo dove riposano personaggi illustri, uno tra questi Voltaire. Un piccolo segreto, al suo interno c'è il famoso pendolo di Foucault che dimostrò la rotazione della terra. Purtroppo non siamo potuti salire fino in cima, ma per noi rimane comunque un otto pieno. Proseguiamo con l'arco di trionfo, simbolo della gloria francese. Per arrivare in cima dovrete fare 284 scalini. Raga, sembravano infiniti, ma ne valgono la pena. Per chi dall'alto vi aspetta una delle viste più suggestive di Parigi, con tutte le strade che convergono verso l'arco. Forse non tutti sanno che sotto l'arco si trova la tomba del milite ignoto, con una fiamma eterna in memoria dei soldati caduti. Per noi è un altro otto. Al numero otto abbiamo la tomba di Napoleone, all'interno dell'Hôtel des Invalides, un luogo imponente che racconta la storia della Francia. Napoleone riposa sotto questa cupola dorata, degna di un imperatore di tale importanza. Confermiamo l'otto anche per questa. Al settimo posto troviamo l'Opera Garnier, o più comunemente chiamata Opera de Paris, uno degli edifici più eleganti e sontuosi di Parigi. Probabilmente ancora più affascinante del San Carlo di Napoli, che abbiamo visto l'anno scorso. E anche in quel caso abbiamo fatto di video a riguardo. Tornando all'Opera, ci sentiamo di dare un otto e mezzo. Al numero sei c'è la Basilica del Sacro Cuore, sulla collina di Montmartre. La sua posizione la rende uno dei punti panoramici più belli di Parigi. Tra l'altro raga, non ho mai visto così tanti lucchetti in vita mia. Commentate qui sotto se avete mai visto una roba del genere. Voto nove! Ma entriamo nella nostra top five con la Saint-Chapelle, un gioiello gotico famoso in tutto il mondo per le sue incredibili vetrate colorate. E' stata costruita per ospitare le rinque preziose, tra cui la corona di spine. Per noi è un meritatissimo nove. Al quarto posto troviamo la Tour Montparnasse. Non è sicuramente famosa come la Tour Eiffel, ma vi assicuro che l'abista dalla sua cima è altrettanto mozzafiato, se non addirittura migliore. Saliamo, più in alto che possiamo! Madonna! Wow! Wow! Da qui si può vedere tutta la città, compresa la Torre Eiffel, il Louvre, ma anche la tomba di Napoleone. E se volete fare come noi e salire di notte spendendo poco più, vedrete tutta la città illuminata rendendo l'atmosfera unica. E' uno spettacolo che vi consigliamo di non perdere. Di giorno e di notte, per noi, la Tour Montparnasse merita un bel nove. Ma ora saliamo sul podio con il Louvre. E' molto più di un semplice museo. Al suo interno ci sono oltre 35.000 opere d'arte e la sua collezione spazia dall'antichità ai giorni nostri. Non per niente è considerato il museo più importante al mondo. Ovviamente la star principale è la gioconda di Leonardo da Vinci. Comunque ragazzi, un piccolo consiglio. Se non volete perdervi come è successo a noi, scaricate l'app del museo o imparatevi molto bene la mappa. Al Louvre diamo un bel nove. Eccoci arrivati al secondo posto con il magnifico palazzo di Versailles. Questo capolavoro è stato la residenza ufficiale di Luisi XIV, meglio noto come Re Sole. L'intero complesso, dagli interni ai vastissimi giardini, trasmette una sensazione di potere e grandezza. Ma la ciliegina sulla torta non può essere che la sala degli specchi. Immaginatevi una sala lunga 73 metri con 357 specchi. Ma adesso è arrivato il momento di uscire. Potete visitarli comodamente da una golf car, oppure... Fate come noi che ci siamo fatti 25 chilometri a piedi, ma solo così siamo riusciti ad immergerci completamente in questo sogno ottocentesco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso pausa pranzo ma questo sarà il prossimo video e adesso andiamo nel Grand Réunion. E finiamo con il Petit Trionion. Ok, ok, basta giardini. A Versailles diamo un bel nove e mezzo. Concludiamo con la Torre Felle. Non c'è molto da dire che non sapete già, ma viverla di persona è tutta un'altra cosa. Non importa quante volte l'avete vista in foto nei film, quando siete lì sotto vi sentite piccoli piccoli di fronte alla sua messosità. Salire sulla torre è un'esperienza unica da fare almeno una volta nella vita. Si può scegliere se salire con l'ascensore o affrontare 1665 gradini. Noi abbiamo votato per l'ascensore, altrimenti non sarai qui a parlare. E se potete, andateci al calare del sole così da vedere, se il tempo ovviamente lo permette, il tramonto e poi la città che si illumina. Potete anche utilizzare il bagno della Torre Felle, all'altezza di 300 metri. Lo sapevate che la Torre Felle doveva essere smontata dopo l'esposizione universale del 1889? Ma grazie a Dio è stata salvata perché si rivelò utile come antenna radio e oggi è l'attrazione più visitata al mondo. Neanche a dirlo, per noi è un 10. Bene ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciateci un like di supporto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video su Parigi. Per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a chiedere qui sotto nei commenti e noi vi risponderemo. Quale sarà il prossimo video qui a Parigi? Provate a indovinarlo. Ciao ciao! Grazie a tutti!